Il sistema informativo Excelsior, realizzato da Union Camera in accordo con Ampal, ha fornito i primi risultati del monitoraggio dei fabbisogni occupazionali delle imprese nel primo trimestre 2020. A livello nazionale si registra una crescita delle assunzioni previste sia su base mensile che trimestrale, in larga parte trainate dalla domanda di laureati. In Liguria sono 11.180 i contratti programmati alle imprese nel mese di gennaio, in aumento di 1.520 unità più 15,7% rispetto a gennaio 2019 e saliranno 31.140 nei primi tre mesi del 2020. Dall'analisi degli ultimi 12 mesi risulta evidente un picco di assunzioni nei mesi primaverili in preparazione della stagione estiva e a gennaio quasi totalmente assorbite dal settore turistico e commerciale. Il settore dei servizi nel complesso assorbirà l'80% delle entrate previste, nell'industria si concentrerà il rimanente 20%. Cresce in termini percentuali la richiesta da parte delle imprese di profili high skill, ad alta specializzazione tecnica, ma anche di conduttori di impianti e macchine. Tra le professioni più richieste, le imprese si segnalano cuochi e camerieri, tecnici delle vendite, commessi di negozi e nella grande distribuzione, personale non qualificato nei servizi di pulizia e personale di amministrazione, segreteria e servizi generali. Rispetto alla classe dimensionale delle imprese, il 59% circa delle entrate previste a gennaio riguarda quelle con meno di 50 dipendenti, il 16% le imprese tra i 50 e i 250 dipendenti e il 25% quelle con oltre 250 dipendenti.